se bisogna usare la parola ferite e forse in certe persone non si chiudono del tutto in altre forse cicatrizzano ma la cicatrice è un segno no e allora sono le tracce e queste tracce normalmente rimangono tutta la vita normalmente forse in qualche caso speciale c'è qualcuno che è capace di cancellare io non ci credo perché credo che rimangono un po forse sotto sotto e poi ritornano a galla in certi momenti anche perché forse perché sono in questo paese dove si dice che in Argentina o si è psicoanalisti o psicoanalizzati o sei amico di tutti e due è un po' vero questo psi in Argentina è un po' dappertutto e quindi credo che rimangono anche se tu te lo nascondi rimangono cosa si può fare quando uno ha delle ferite così ognuno ha la sua maniera io quelle mie quella del bambina piccola io le racconto sempre è una maniera esporre parlare è una buona maniera di agire quando no e le racconti ora in questo ultimo percorso l'ho raccontato un pochino di più perché mi era successo l'anno scorso al fine dell'anno scorso un cugino mio a milano mi ha portato al binario 21 dove partivano i treni per Auschwitz allora basta vedere quei barri e vagoni e poi i nomi accanto per capire tante cose che tu magari già le sapevi io le sapevo però è stato veramente uno schianto per me erano detto no io devo questa volta devo cominciare con quel con la prima parte della mia storia della mia famiglia ed è la Shoah e mio nonno è rimasto che come mio padre dicevano non capiterà niente in Italia figurarsi per fortuna per nostra fortuna mia madre ha convinto mio padre e siamo andati prestissimo in Argentina ma mio nonno è rimasto ed è stato deportato e allora per me come bambina c'è stata la cacciata di scuola adesso ci sono ritornata nella mia scuola degli elementari è stato bellissimo molto emozionante per me ma anche per i bambini che mi hanno ascoltato e poi io ho avuto la mia storia argentina con tanti fatti qualcuno traumatico e altri bellissimi e poi c'è stata la mia vita che è stata una vita normale diciamo con un compagno meraviglioso di tutta la mia vita è un paese ospitale perché l'argentina è un paese molto ospitale per tutti e poi è venuta l'altra tragedia di mia figlia diciottenne anch'essa sequestrata portata in un campo di concentramento ammazzata con i voli della morte quindi le storie di a un certo punto si riavvicinano le storie di mio nonno e di mia figlia perché non ci sono tombe per nessuno dei due e perché anche tra la Shoah e quello che accadeva nei campi di concentramento argentina ci sono molte cose analogie ci sono delle analogie ci sono anche molte differenze ma ci sono molte analogie ma questo è tutto un altro discorso che sarebbe molto lungo adesso farvelo in poche parole però questa volta ho preso questo impegno e questo impegno mi ha permesso in un certo senso fare un percorso che è un po più vicino alla storia della mia vita e alla storia del novecento con queste tragedie mentre prima sempre parlavo delle sue storie ma le mescolavo e partivo in generale dalla storia argentina e poi andavo a ritroso e questa volta l'ho fatta così una parte è stata destinata avevo tre temi specificamente uno era i luoghi del terrore dove sono stati fatti il terrore e lì volevo soprattutto dimostrare e sottolineare la responsabilità del fascismo responsabilità italiana non dell'italia del regime fascista e l'ho fatto perché soprattutto sulla deportazione c'è una grossissima responsabilità come c'è la responsabilità in tutti i paesi occupati dai tedeschi ma dei popoli locali che hanno guardato dall'altra parte e molte volte sono stati anche anche o semplicemente così non facevano niente ma a volte complici e questo bisogna ricordarlo e poi l'altro tema sono i giusti e giusti ci sono tanti esempi in italia quindi li ho cercati di sottolineare e così portandola a un'altra storia sono le speranze dei nostri figli quella speranza di un mondo più giusto e loro hanno avuto non solo le loro vite si sono spezzate ma a questo punto a quel punto anche questa strada però e allora in questo momento la speranza sembra che è di cosa succede ma la speranza c'è sempre e si può andare avanti e oggi giorno si sta andando avanti e si sta andando avanti in Argentina in tante parti del mondo ma le strade a volte hanno questa situazione in cui la speranza di colpo sembra che si diluisca si perde ma c'è in qualche parte e rinasce e lì di nuovo c'è questo impegno a far ricordare anche a stimolare la speranza aiutare a non perdersi e a non credere che tutto è finito che se tu non hai un lavoro oggi non lo puoi trovare domani ma devi metterci tutto il tuo cervello la tua immaginazione la tua creatività e andare avanti e allora su quel punto su questo tema che a me importa ancora io ho da percorrere dei posti e lì e anche in Argentina e questo diciamo il mio impegno ha tante strade da percorrere anch'io ho da percorrere tante strade e finché posso lo farò ovviamente che non sono eterna sarà finché le mie gambe e il mio cervello mi aiuteranno e poi continueranno gli altri